Cercasi bagni pubblici, disperatamente. Lo scenario che si registra a Lecce, una delle città d'arte più frequentate e ammirate d'Italia, è desolante. E' trascorso più di un anno dal servizio denuncia realizzato dalla nostra emittente e nulla è cambiato. Scovare un bagno è come cercare un ago nel pagliaio. Lo sanno bene i numerosissimi turisti che in questi giorni affollano le vie del centro. Ora sulla vicenda torna a bomba il coordinatore cittadino del Movimento Regione Salento, Giancarlo Capoccia, che ha effettuato un mini reportage in città. Teatrini non esistono bagni pubblici ma vengono aperti solo ed esclusivamente quando ci sono degli eventi. Banni del Teatro Romano fatiscenti, secondo noi inutilizzabili. Banni ex agi inesistenti, bagni pubblici, villa comunale chiusi, bagno Viale Marconi, ancora più fatiscente di quello del Teatro Romano. Conclusione, Lecce non ha un solo bagno pubblico per turisti e cittadini. Prima tappa del tour, la villa comunale. Praticamente chiusi dalla cinesca abbassata, bagni non utilizzabili. All'ex agi in futuro nascerà un infopoint per i turisti, oggi però qui regna solo il degrado. Banni pubblici anche in questo caso non c'è solo. I bagni all'interno dell'ex convento dei Teatrini sono fruibili ma, avverte capoccia, solo di sera in occasione di eventi e manifestazioni. Stessa musica, ahimè, al Teatro Romano. Altra condizione di pericolosità, capo 220 scoperto, luce, ovviamente che non funziona, però l'acqua esce, questa è una cosa già importante. Davanti alle mura del castello Carlo V, ecco come sono ridotti i bagni di Viale Marconi. Il bagno dei disabili, chiuso per lavori, scusate il disagio. Questo è il bagno uomini e disabili. Queste saranno le condizioni sempre di questo bagno pubblico. Insomma, il quadro è sconfortante. Un brutto biglietto da visita per i turisti costretti a rifugiarsi nei bar e nei locali pubblici, con buona pace di commercianti ed esercenti.